Partiti in quattro comuni nel 2017, 13 ad oggi, destinati a diventare 20. Si diffonde a macchia d'olio l'associazione Controllo di Vicinato, che in Veneto conta sugli occhi di quasi 10.000 famiglie, 700 nella sola Montegrotto, che sabato ospiterà il Congresso Nazionale dei Referenti. Un controllo statico organizzato attraverso chat di cittadini, con il coordinatore comunale a fare da ponte diretto con le forze dell'ordine. E a Montegrotto c'è una particolarità, 700 famiglie e 79 tra negozi, bar e non solo, spiega Giorgio Tripodi, referente comunale e anche provinciale. Abbiamo su Montegrotto una rete di commercianti esercenti, all'interno della quale rete sono presenti tanti commercianti, tanti bar, tante attività commerciali. Abbiamo anche le farmagie, fanno parte della rete. Abbiamo anche qualche studio medico, che fa parte della rete. E quindi questo dà maggior importanza alla verifica sul territorio. Anche i turisti riconoscono questo simbolo giallo e blu note in tutta Europa, ed entrano per richieste di aiuto, ma anche solo per un consiglio. Ha aumentato il senso di sicurezza dei cittadini, che hanno creato una rete di protezione dal basso, riallacciando anche i cari e buoni vecchi rapporti di vicinato. E dal Congresso di sabato partirà un'idea. Il fine nostro, e quello come associazione, è di costituire dopo delle reti, quindi network, di comuni, all'interno dei quali ci sarà una persona per comune a fare da portavoce, da segnalatore a tutto quello che capita nel suo comune e a leggere quindi le esigenze e i pericoli dei comuni limitrofi.